Ho sentito quanto conti per lei stare di fronte a me in una condizione di potere e ho pensato che forse questo è un momento in cui il suo potere viene messo in discussione su vari fronti Bene Io credo che per prima cosa sia molto importante capire perché lei è così preoccupato Qualunque cosa accada nelle prossime ore Qualunque cosa tu senti non ne parleremo mai